SON BENISSIMO Troveremo che ha ucciso Umberto, te lo prometto. Chiederò un trasferimento. Dove vorresti andare? Ovunque. Andrò dove nessun altro vuole andare. Non deve succedere mai più che colpisca una gente. È un altro membro dell'amministrazione. Isolamento! Tu come stai? Non riesco a capirlo. Beh, male. Riusciremo a fare luce anche su Umberto, il Mide. Riuscireme a successo. Grazie a tutti